Oggi giornata memorabile, sono arrivati un branco di delfini che si sono messi a giocare sulla proia della barca e sono state decine, hanno iniziato a saltare, a incrociarsi, le piccole, le mamme, era una cosa incredibile. Non ho resistito all'idea di non poter fare il bagno con loro, per cui mi hanno messo il banzico e mi hanno buttato fuori sul braccio dello spi e lì mi hanno calato poi con la drizza e praticamente ho fatto bagno con loro, per un po' sono stata lì a giocare con loro e è stato veramente bello, poi insomma fare il bagno in mezzo all'oceano è davvero forte. Anche l'acqua la capisce. Però ci vengono. Cerca di buttare fuori il culo indietro così ti stai a meglio. E poi ti butti giù. E' il contrario, ti devi buttare giù così. Metti il piede sopra la cima che ti tiene orientata. Esatto, stai in giù bene con la schiena. Vado, quando sei stacca dillo, eh. Vado bene. Proprio da guardare che buonissimo. no questo numero cazzo se bagnate la maglietta c'è il costume e uno può fare tutto nella vita, è scherzo in un certo modo